Inizia proprio qui da Pesaro insieme a Mario De Remigio e Michele Poletti nel loro ristorante la campagna di promozione per le marche per il consumo del granchio blu, una campagna che ha iniziato il nostro ministro per l'agricoltura, le foreste e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Noi dobbiamo trasformare una criticità in una opportunità. Ora la diffusione del granchio blu nei nostri mari sta diventando invasiva e potrebbe mettere in forza la sopravvivenza di altre specie marini. Promuovendo il consumo del granchio blu riusciamo a contingentare la presenza di questo crostaceo ma anche a tutelare i nostri pescatori e i nostri ristoratori. La nostra sensibilità a quello che sta accadendo alla pesca, soprattutto la pesca delle vongole, quello che potrebbe essere il pericolo del granchio blu ci ha portato a inserirlo nel nostro menu in tanto come piaccia del giorno e in più in tutte le preparazioni in cui usavamo i granchi diciamo più nostrani abbiamo sostituito quel granchio blu. Questo per noi è un piccolo contributo a quello che potrebbe essere la difesa delle nostre coste e la diciamo in qualche modo opporsi alla invasione del granchio blu che da come si legge e si evince da tutti gli articoli negli ultimi tempi diventa una specie molto invasiva e soprattutto potrebbe creare grossi danni. Anche se da noi ancora nelle Marche sono stati avvistati solo alcuni esemplari, soprattutto una specie autoctona diversa in Ancona, ancora il pericolo non è così imminente. Però noi intanto iniziamo iniziamo a usarlo così in qualche modo contribuiamo al contenimento di questa specie e che farà sì che magari prima o poi diventerà una specie aliena ma non così distruttiva. Tutti i ristrutturatori che ho contattato hanno dimostrato grande interesse per questo diciamo nuovo mercato. Io spero che troviamo, che riusciamo a sensibilizzare l'opinione pubblica insieme all'opinione pubblica, i nostri ristoratori che sono sicuramente degli imprenditori intelligenti e sapremo affrontare insieme al governo che ha già stanziato 2,9 milioni di euro con il Consiglio dei Ministri dell'inizio del mese di agosto, riusciremo a affrontare e magari a vincere anche questa emergenza. È un crostaceo che ha dei gusti leggermente diversi dal nostro granchietto solito perché è leggermente più ferroso quindi va lavorato un pochettino, va cotto in una maniera che vada via un pochettino questo amaro che magari tende a spuntare da questo granchio. però è un granchio che si può utilizzare benissimo nelle nostre tavole, vengono fuori degli ottimi piatti e anzi noi adesso lo promuoveremo in modo che per fare due cose, uno perché è buono e due perché comunque sensibilizziamo la gente verso questo prodotto che crea dei danni e quindi diciamo che facciamo due piccioni con una fava. È un prodotto che sicuramente non ha un grosso costo, voglio dire si parla di qualche euro al chilo, diciamo che un piatto di granchio blu è da considerare magari come un piatto alle vongole o qualcosa del genere quindi se uno fa un primo, fa un guassetto, diciamo che una cosa equa è intorno ai 12-13 euro per un primo, 7-8 euro per un antipastino di granchio blu, ho la griglia, ho il vapore, ho un gassetto, come uno lo vuole fare.